Arrivano con il calar della notte, a poco a poco occupano ogni angolo disponibile all'interno e nei punti riparati all'esterno della stazione San Giovanni. Con cartoni e coperte di fortuna delimitano il proprio spazio e li rimarranno fino a quando sorgerà il sole. In questi ultimi giorni, complice il primo freddo, il numero dei senza tetto e dei disperati in cerca di un riparo è salito. Se ne contano più di 50. Come documentato nei giorni scorsi anche dal consigliere comunale di Como, Marco Butti, che denunciava una situazione limite con i viaggiatori, soprattutto quelli che si muovono al mattino presto, a fare lo slalom tra i giacigli. Un problema che puntualmente si presenta ogni anno e che vede schierate in prima linea le associazioni di volontariato, il Comune e la Caritas. Come sempre siamo concentrati sul tema, in sinergia con Palazzo Cernezzi e gli altri soggetti, spiega Roberto Bernasconi, direttore della Caritas di Como. Stiamo lavorando per contrastare un'emergenza sempre più pressante. La situazione in stazione è ben nota, conferma, i numeri di quanti la usano come rifugio aumentano. Molte aggiunge le segnalazioni di quanti arrivano per prendere un treno e si scontrano con questa realtà che negli ultimi anni sta coinvolgendo sempre più persone, anche per via dei flussi migratori incessanti. Oltre al sostegno quotidiano, a partire dal prossimo primo dicembre e fino al 2 aprile 2016, sarà attivo, nell'ambito del progetto Emergenza Freddo, il servizio di accoglienza notturna per le tante persone senza dimora della città di Como che non trovano ospitalità negli altri alloggi disponibili. L'accoglienza di uomini e donne, italiani e stranieri, è organizzata in alcuni ampi locali del centro Cardinal Ferrari, in via Sirtori a Como, dove, spiega ancora il direttore della Caritas, si contano circa 40 posti letto. Con questa disponibilità pensiamo di assorbire almeno il 30% di quanti, se lo vorranno, ora dormono in stazione. Il progetto è realizzato dalla Rete dei Servizi per la grave marginalità di Como, operativa sul territorio cittadino da 4 anni. Noi curiamo anche l'aspetto di sicurezza igienica, dando vestiti e quanto può servire i senza tetto, che, ribadisce Bernasconi, dal primo dicembre avranno un luogo dove trovare riparo. Nella struttura di via Sirtori operano una ventina di associazioni comasche.